Eccoci tornati cari telespettatori Allora, allora, fuori dal nostro studio è meraviglioso perché c'è questo corridoio bellissimo, lunghissimo, tutto a vetri a 360 gradi E che cosa è successo prima Francesco? A un certo punto vedo buio e dico ma com'è possibile? Sono le 15.30 e il 2 maggio è strano A Roma in questo momento 2 maggio è buio già, diluvio universale Vabbè ma Francesco è maggio, è normale, tra l'altro ieri è stato primo maggio e come ogni primo maggio Che stava il concertone No, a parte quello, si sono invertite le cose, nella capitale abbiamo avuto una pasquetta veramente con un sole che spaccava le pietre E invece un primo maggio ovviamente quasi come sempre con il diluvio universale Non ti piace il concertone Francesco? Non mi piace, no, 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 avrei da ridire sul concertone Avrei da ridire, tra l'altro, tra l'altro, dopo ascolteremo alle 16.30 le vox Quindi ascolteremo il parere delle persone che erano lì al concerto Perché il nostro Thomas Cardinali ovviamente Perché i nostri colleghi dell'ANSA ovviamente erano lì e quindi hanno fatto E anche Thomas Cardinali, però Thomas Cardinali sai dove era? Nel backstage a mangiare, a bere, a fare le interviste ai cantanti Per Tag24 e ovviamente vi invitiamo di andare a leggere le interviste che ha fatto Thomas Cardinali del Cusano Miede Gruppo Ovviamente sul nostro sito di informazione online Tag24 Bani Cusano Mi piace il concertone a Luigi Gabriele di Consumerismo? Buon pomeriggio, presidente Avevo l'età per andarci, mi piaceva adesso, ragazzi, lasciamo spazio Ma qual'età? Ma è tanto bello dal divano di casa Guarda, è un posto in prima fila, è di una comodità estrema La birra ce l'hai a casa Mentre gli altri Dal 1990 si celebra quello che è un rito praticamente pagano Ormai che è un qualcosa che ha senso ancora Io gliela voglio fare questa domanda Ti citiamo del tuo avvento Ti voglio fare questa domanda a Luigi Ha senso se poi leggiamo ancora di Morti Bianche Se parliamo di NIT, di 50 anni che sono inoccupabili Se parliamo di reddito di cittadinanza Se parliamo di inflazione Se parliamo di tutta questa storia qui Ha senso il concertone Togliamo le frasi sui diritti Va bene, facciamo un concerto Ci mettiamo là, cantiamo, balliamo Ma non parliamo del lavoro Per favore, perché è un'ipocrisia Perché è un'ipocrisia Francesco, io sono d'accordo con te Panem et Cercensem si utilizzava in periodi storici In cui bisognava bindolare in qualche modo i sudditi Oggi sappiamo che Certo andrebbe rivista anche un po' la Costituzione italiana Perché dire che siamo fondati sul lavoro È un po' un azzardo Quando il tema del lavoro forse dovrebbe essere rivisto Con un'altra visione, un'altra ottica Non è proprio così più accessibile a tutti E soprattutto non si sta facendo abbastanza Per fare in modo che chi è in difficoltà Oggi sai quanti sono i ragazzi Che non cercano, non trovano lavoro E soprattutto non si formano Leggevo intorno ai 2 milioni, non sbaglio? Eh, guarda, li hai citati tu prima Ma sono il 33% dei giovani dai 16 ai 30 anni No, è pazzesco, è pazzesco È veramente un dato che fa male ascoltare per noi giovani Anche perché adesso non vorrei tirar fuori il concertone Chi lo sovvenziona Quanto prende l'Angiolini Quanto prende Biggio Non facciamoci dei nemici Non mi voglio fare dei nemici Ma se noi tutto quel gruzzoletto Lo prendiamo e lo diamo Non sarebbe sbagliato Eh, non sarebbe sbagliato no Eh, non sarebbe sbagliato no Ma va bene, sono chiacchiere che tanto lasciano il tempo che trovano Perché noi siamo italiani E noi vogliamo la pizza il sabato sera La partita Sanremo Il concertone Siamo contenti Però è anche vero che sono cose che funzionano E comunque ormai sono entrate a far parte della nostra società Ma io impazzisco A me piacciono tantissimo Non ti piace andare a vedere la Roma? Soprattutto mi piace andare a vedere la Roma Però Però Il senso Ci deve essere coerenza Non ci deve essere ipocrisia Anfacciamolo il concertone E dal 90 che lo facciamo Facciamo Cantiamoci Divertiamo Non parliamo del lavoro Non parliamo di lavoro Perché se dobbiamo parlare di lavoro Parliamo di altre cose Di altre storie Luigi Gabriele Luigi Gabriele Le regole dell'Europa Grafica numero uno Arriviamo a noi La leggiamo Eccola qua Salviamo api agricoltori Un milione di firme per l'iniziativa dei cittadini europei Un segnale Ai colegislatori Cara Francesco Romano Grito L'Unione Europea Di tenere alta l'ambizione ambientale La fonte ovviamente è Progeo Progress in European Union Luigi Beh io direi che dobbiamo salvare per forza le api se vogliamo continuare a mangiarci qualcosa Ricordiamolo sempre perché ce ne dimentichiamo che le api svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione degli ecosistemi Perché? Perché si stima che il 90% della riproduzione delle piante nel nostro pianeta dipende dall'impollinazione animale Ovvero il 70% di quello che noi coltiviamo dipende esclusivamente dall'impollinazione degli insetti impollinatori Che sono le api, le farfalle e gli altri impollinatori di genere Quindi dobbiamo per forza preservare E che cosa è successo? È successo che è stata avviata una raccolta firme su base europea Proprio per tutelare e salvare non solo questo straordinario e meraviglioso insetto Che ci rende tutti più grati a loro perché è accessibile il cibo di quello che ci mangiamo Ma perché sono fortemente in grave difficoltà Noi utilizziamo in agricoltura troppo spesso dei prodotti per cercare di potenziare in qualche modo La produzione delle nostre piante ma ci dimentichiamo di preservare proprio coloro che impollinano E che sono messi duramente a repentaglio appunto dai pesticidi sintetici Lo scopo di questa petizione che ha raggiunto un milione e mezzo di firme su base europea Serve appunto per stimolare la Commissione a trovare delle soluzioni Quali potrebbero essere delle soluzioni? Innanzitutto si cercherà di arrivare al 2030 alla riduzione dell'80% di questi pesticidi di origine sintetica Poi bisogna iniziare a pensare anche a misure di recupero della biodiversità Non si può pensare di fare campi coltivati in maniera univoca E poi non garantire che gli ecosistemi tornino in un certo equilibrio tra di loro Quindi un ulteriore scopo della petizione è questo E in terzo anche quello di tutelare e salvaguardare gli agricoltori Perché è ovvio che gli agricoltori in qualche modo devono essere sostenuti Nel cercare di individuare nuove formule di coltivazione agricola Che siano il più possibile sostenibili Visto che sono 10 mila anni che l'agricoltura non innova Non vorrei sbagliare Luigi ma è momento no? Tra l'altro Assolutamente È uno dei momenti topici nel calendario annuale Questo periodo in cui si semina Proprio per poter raccogliere nei momenti opportuni Questo è volentieri sottovalutato Assolutamente Andiamo con la seconda grafica Luigi Sì parliamo Summer Academy a Roma Dal 17 al 19 luglio Tre giorni insieme con giovani da tutta Italia Un programma interamente dedicato all'Unione Europea E alla conoscenza dell'Unione Europea Allora non sembra Ma ce n'è bisogno Ce n'è pure tanto bisogno Perché nelle scuole non viene fatto Beh è come se io dicessi Non vogliamo sapere che cosa fa il nostro comune Non vogliamo sapere che cosa fa la nostra provincia La regione Eppure sono responsabili del circa l'80% Di quello che decidono Che poi impatterà sulla nostra vita Beh lo stesso vale per l'Unione Europea Che ha adottato questo interessante Tanto il nuovo modello di coinvolgimento Soprattutto dei giovani Perché poi alla fine L'Europa è ancora giovane E deve formare i suoi cittadini europei Vero e proprio Noi ci sentiamo ancora molto nazionalisti Ma le giovani generazioni invece come voi Come me Sono sempre più aperte invece A pensare a un modello di cittadinanza Molto più europeo Per fare questo che cosa succede? Che ogni anno si fa questa academy In cui veramente si insegna alle persone I ragazzi Quali sono i compiti dell'Unione Europea Com'è il funzionamento Delle architetture istituzionali europee Come potervi accedere Come anche funziona la macchina politica Non solo quella istituzionale Quest'anno Pensate Sarà a Roma ad ospitare questa academy Ci sarà Sarà il 17 e 19 di luglio del 2023 A me dispiace perché purtroppo sono scaduti i termini Perché era fino a domenica scorsa Domenica 23 Ma ci si poteva candidare Per partecipare a questa bellissima academy Adesso purtroppo a me Le candidature sono chiuse Ma probabilmente parteciperanno Un bel po' di giovani Tra i 18 e i 30 anni Ovvero coloro che in qualche modo Sono più interessati a formarsi culturalmente Con la visione europea Molto bene Terza grafica Luigi Andiamo a vedere un pochino di cosa Di cosa parliamo Allora I data act L'Unione Europea è sempre molto attenta Ovviamente Agli sviluppi Per quanto abbiamo parlato della cyber security Abbiamo parlato delle cripto E adesso i data La normativa mira a favorire l'innovazione Eliminando le barriere che ostacolano l'accesso Ai dati per consumatori e imprese Anche perché la fuga dei dati È un qualcosa all'ordine del giorno oramai No? Aziende pubbliche Aziende private Ministeri Ma non solo la protezione dei dati È la valorizzazione dei dati Che è un elemento ancora sotto Sotto utilizzato da un punto di vista Sia concettuale che economico Pensate che se noi abbiamo la normativa Sulla privacy anche in Italia Che in alcuni casi è un po' scocciante Se vogliamo stare in continuazione A firmare A sottoscrivere A autorizzare qualcuno Per l'utilizzo e la protezione Dei nostri dati personali Però in realtà è la normativa Più evoluta su base globale Grazie a quello che nonostante Non ci sono numerose fughe E violazione dei dati Che noi riusciamo a essere più protetti Rispetto ai cittadini di altri continenti Adesso l'Europa però punta a valorizzarli Anche da un punto di vista Sia economico Che di beneficio generale Dei dati che noi produciamo Noi produciamo terabyte e terabyte Di dati ogni anno Tutti i cittadini europei Sono dati straordinari Pensate a tutti quelli che producono Soggetti istituzionali Come potrebbero essere Non so Le ASL I centri di ricerca Tutti i soggetti pubblici Beh questi dati Spesso vengono tenuti Non dico nascosti Ma sotto utilizzati Vengono utilizzati soltanto Per alcune finalità specifiche Non socializzati Non patrimonializzati In maniera corretta Però attenzione Se noi utilizzassimo Tutte le banche dati Che abbiamo a disposizione Adesso Su base europea Avremo una capacità straordinaria Di migliorare tantissimo I nostri servizi Ed è quello che Vuole fare in realtà La nostra commissione Che è quella appunto Di renderli più accessibili Ma proponendoli Ovviamente la proposta di legge Non fa nient'altro Che precisare Chi può accedere A quali condizioni Però vuole sempre Sensibilizzare di più Luigi Gabriele Io trovo che Per quanto è l'ora Dell'educazione informatica Siamo rimasti molti Al millennium bug Insomma E come ci dicevamo Anche nelle volte scorse Bisognerebbe Luigi Fare proprio Un vero e proprio Corso anche Di educazione digitale A partire Dalle scuole All'interno delle università Perché stare sui social Ma non solo Avere anche a che fare Con la tecnologia Dovrebbe essere una cosa Minimamente regolamentata E soprattutto Visto che ne abbiamo Così tanto A che fare Quotidianamente Con questo ambito Con questo settore Dovremmo sapere Come muoverci E come stare attenti E certo Perché vengono strapagati Anche giustamente Buon per loro Dei consulenti Che per le grandi aziende Tengono i dati Delle aziende E di chi Usufruisce Dei servizi Dell'azienda Qualunque Esi siano Vengono strapagati Perché? Perché all'interno Nonostante ci sia Spesso e volentieri Un ufficio informatico Non c'è nessuno Che trattiene i data È pazzesco È pazzesco Beh sai È come È lo stesso concetto Che potremmo utilizzare I dati spesso Vengono equiparati Al cosiddetto Petrolio Tanti anni fa Quando scoprimmo Il petrolio Pensammo Che poteva essere Una Una buona risorsa Se utilizzata Correttamente Ma ancora Non avevamo immaginato Quali potevano essere Le sue potenzialità Ma anche Le sue pericolosità Lo stesso vale per i dati I dati sono Il petrolio digitale Di questa epoca Hanno un valore Economico Straordinario Ma ai miei Non tutti hanno capito Quanto sono importanti E come fare La funzione Sia nel produrli Che nel utilizzarli Il data act Ha proprio questo scopo Quello di favorire L'innovazione E eliminando Le barriere Che ostacolano L'accesso ai dati Sia per i cittadini Che per le imprese Abbiamo un minuto Luigi Alle mie spalle c'è Green deal Il nuovo regolamento Sulla condivisione Degli sforzi Riduce il livello Massimo di emissioni Consentiti nei paesi L'Unione Europea Per i settori Trasporti Edilizia E agricoltura Come la commentiamo Brevemente Luigi? Beh Dal 2019 L'Europa ha dichiarato L'emergenza climatica Dichiarandolo Ha stabilito Che siamo consapevoli Che siamo in una fase In cui Guardate in questo momento A maggio Le temperature sono strane Ci ammaliamo molto facilmente Proprio perché Non c'è più La stabilità climatica Bene L'Europa ha pensato Di rispondere A questa crisi climatica Attraverso un grid deal Che cos'è un grid deal? È un patto verde Un obiettivo Molto elevato Che è quello Di fare in modo Che le buone azioni Le buone pratiche Sia tecnologiche Che comportamentali Che rispettino L'ambiente E il pianeta Possono anche Avere dei benefici Di natura economica E questo sarà Il risultato Di una serie di azioni Che l'Europa Metterà in campo Che vanno Dalla sostituzione Della caldaia Al 2030 All'abbandono Delle autotermiche E fino all'innovazione Più spinta Sulle fonti rinnovabili E dobbiamo arrivarci A questo obiettivo Luigi Gabriele Grazie mille Di essere stato con noi Ci vediamo La settimana prossima Grazie mille Consumerismo ovviamente Quindi per qualsiasi cosa Consumerismo C'è chi vi tutela C'è sempre chi vi tutela Noi ci fermiamo Noi ci fermiamo un attimo Perché passiamo La linea Al telegiornale Del Cusano Media Group Noi torniamo Tra pochissimo